Un riconoscimento al vostro lavoro quotidiano? Diciamo di sì, quello che è stato svolto un po' nei quasi 40 anni di attività dalla nascita del Gaibe, inizialmente più dedicata all'avvistamento degli incendi boschivi e poi dall'area degli anni sulla repressione agli stessi e la protezione civile e assistenza alla comunità. Il Gaibe è molto presente in Valdarno, quanti sono le sezioni e all'incirca quanti sono i volontari impegnati? I volontari all'incirca sono da circa 250 e oltre alla sede amministrativa operativa qui di Ponte Agli Stori, nel Comune di Incisa e Figlia di Valdarno, conta un'altra quattro sezioni, Castelfranco, Piantisco, San Giustino e Lucolena nel Comune di Greve.